Ehi, benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video di Fortnite, oggi siamo tornati con vela fratello, no freno mi è troppo da ridere, però se ne ride io rido, no freno, si controlli, dai prego, raga facciamo un po' di duo, vediamo cosa ne esce, perché qua la situazione mi sa che degenererà, anche tanto di brutto, mi sente benissimo vero, la sento più o meno come prima, però va bene, oh oh oh, 2000 persone in casa mia freno, no freno non ho ammazzato nessuno, anzi, mi stavano per ammazzare a me, oh oh, dai freno sopravviva, ma io sinceramente entro qua, like un po' di mine, un po' di due, però ho fatto 50 a tutte e due, è una qualità da vicenda, però questo qua è one hit, freno sta curando il tipo, freno, e poi c'è un tipo che mi spara, freno sta curando, mi sta venendo freno, venite, venite, ok ok, ok, attento, attento, attento freno, attento, e che cosa ride, oh oh oh, se lei non prende la schedina, io lancio tutto, va bene, no, no, facciamo così, se lei la prende e lancio tutto, freno, 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 adesso deve lanciare tutto, ho appena lanciato le cuffie, adesso me le fungo via, vada vada scappi 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 scappi, se lei mi resta un pozzo, se lei mi resta un pozzo, non la vedo, non la vedo, vada vada, no, no, occhio freno, 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 mazza, vede perché non volevo andare a bordo, perché fa schifo, va bene, adesso le faccio prendere un botte di coppia, puoi vedere, no, freno, dai, serio, eh, lo sapevo io che cantava quella, frero, non si è buttato lei, mi sono lanciato, freno, no, è che nella mappa lei era dentro di me, no, mi dissocio da quello che ha detto, ma perché mi ha aperto così di presso, ciao, freno, mi vede, vero, le vengo addosso, c'è nel senso, no, mi dissocio, ma dove sta atterrando lei, vede, a pantano, ne ho capito, in quale casa di pantano, non ci sono case, in quale struttura di pantano, in una, sento passi che si avvicinano a me, posso dire una cosa per una volta, no, e niente, raga, andiamo sempre noi a proteggere Diego, eh, l'hanno noccato, ora lo finiscono, dopo prendo la schedina, io sclero veramente, sti bambini del cavolo che sbagliano a citofonare, non fanno morire, sti bambini del cavolo, è santo, per una volta che avevo trovato un pompa, ho detto chi è, scusami, come ammazzerò il suo killer, me lo dica lei, ma che cazzo è successo, no, ma che palle, sti bambini, da quando gioco con modi tassiera, non ringrazio l'autista, io, io non ringrazio uno che ti porta a morire su un'isola del cavolo, del cazzo, mi scusi, non per forza morire, no, però la maggior parte delle volte è morire, più che altro ti mette vicino seduto a dei controller del player, quindi, infatti, perché non si, perché non ci spariamo, cioè, perché non ci picchiamo là dentro, esatto, esatto, ragazzi, domanda della vita, perché i player di Fortnite non si picchiano già all'interno del bus e si devono picchiare dopo? Questo è un tryharder senza armi che scappa, ma come senza armi che scappa? Ma è qua dentro in casa? No, non è lui, è un altro, salve, balli, 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 infatti, oddio, 75, me lo sono al pionato, è il secondo, che piccolo, oh, oh, Fero, da dove? Controllo del player, da dentro la casa, ma dov'è? Controllo del player, che tenta, è qua, è qua, è qua, Fero, Fero, arrivo, sono qui, è un Recon, distrutto, Fero, qua sotto, ho provato a pionarlo, ma l'ho fallito, della serie è traito stop, Recon stop, 75 a 1 l'ho pionato, tiro una granata, tiro un'altra, tiro un'altra ancora, non ho fatto nessun danno a nessuno, ok, eccoli, 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 ancora li fatti di scena, salve, oh, no, Fero, 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 perché ridono, 19 di vita, metta pronto, per favore, Fero, come, come è possibile che non l'ho aiutato, un buchino, ma che cosa balla, no, Fero, sono altissimo, sono più alto di non so chi, di me è sicuro, no, vabbè, Fero deve dire come stanno le cose, lui pompa, Fero, lui la cassa è il pompa, ma no, ma è normalissimo, io sto inseguendo lui, io sto inseguendo lui, io sto inseguendo lui, io mi ho fatto tutto un giro, 75, Fero, lui mi ha fatto 200, Fero, una picconata, Fero, no, arriva un altro, tanto non ci trova, non ci vede, non ci vede, finché non si muove nessuno, non ci vede, ve l'ho detto io, madonna, mamma mia, Fero, con l'arpione l'ho ammazzato, oh, ma c'è il cane qua fuori, che porco, ogni volta che recco, rompe, madonna ragazzi, è troppo scarso, chi, io, oddio, scagnozzo ombra, non ci credo, uno è stato ucciso, Fero, ma io sto pusciando, Fero, ma io dov'è, non si incazzi, non si preoccupi, sopra, faccio tipo le finte, ha tried to stop it, but I can't stop it, ok, ha trovato un pump, a caso, è salito, come è salito, ecco, c'è uno qui, sopra, no, vabbè, no, Fero, questo è il control player, ha fatto un movimento stranissimo, Fero, control player, control player, fecevo il pump, lui aveva la pistolina, non l'ho preso neanche una volta, e lui mi ha preso tutti i colpi.